Cosa succede se sei amica dell'intero team di Airstylist del marchio d'eccellenza Aldo Coppola e finisci per essere vittima delle sue smanie creative estive? Semplice, finisci come Paola Barale, che si è fatta rasare la parte inferiore dei capelli per adottare un look completamente nuovo. Un derkut estivo, quindi, per la celebre eroina bionda della tv, sempre più lontana l'adivismo fluente di Marilyn Monroe, dalla quale era partita. Oggi la Barale è senza dubbio più rock e questo nuovo taglio non ha fatto che valorizzare la sua anima modaiola e anticonformista. Un piccolo ripensamento mentre ha visto ciocche di capelli cadere poi via, verso l'ennesimo post sociale, con il quale ha ringraziato Mauro Situra, membro prezioso del team di Aldo Coppola, con un messaggio molto carino. E se questo non è amarti mio caro et Mauro Situra. Dimmi tu cos'è lo bait grazie amor, mi piace tantissimo. Chi se ne frega.